Quando si arriva qui si vede l'asfalto tutto sconnesso, poi si entra in questo piazzale e si è investiti dal colore dei murales, quindi dalla vitalità. Raccontare i diversi volti delle periferie per dimostrare che non sono solo grigio cemento. Ci pensa un gruppo di ragazzi da questi microfoni nel cuore di una delle zone più difficili di Roma. Sempre dal centro antroposto di Dorsapienza. Io sono Marco. Io sono Alice. Io sono Aurora. E questa è Radio on the Road. Io raccogliamo le voci della strada, non solo, insomma, voci, qualsiasi voce nuova che può raccontare la periferia nel miglior modo. Una voce che vuole mostrare sia il positivo sia denunciare le criticità ai nostri problemi, che vanno affrontati, non sono affrontati abbastanza, sono spesso ignorati. Un progetto possibile grazie a Zero Violenza Onlus al finanziamento della tavola valdese e all'impegno di docenti e associazioni che guardano oltre questi muri. Invertendo il flusso, quindi non è più la periferia che va al centro, ma è il centro che veniva in periferia. E da qui nasce poi questa radio meravigliosa di quartiere. Se volete segnalarci le vostre storie, scriveteci a Radio on the Road, chiocciolagmail.com, o seguiteci sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter. Il nostro viaggio prosegue? Rimanete a bordo! Grazie a tutti!